Due parcheggi abbandonati e nel totale degrado, preda di vandele il rifugio di disperati, due simboli di una città che non viene curata dove l'amministrazione vive di spot senza risolvere le questioni concrete. Così il capogruppo in Consiglio Comunale di Fratelli d'Italia, Luca Corona, denuncia le condizioni nelle quali versano danni il parcheggio coperto di Piazza Donatori di Sangue, fra via Pò e via Fonte Regina, e quello di via Pilotti a Colleatterrato. Infrastrutture mai entrate in funzione, vittime di atti vandalici, ma soprattutto risporcizia e rifiuti. Questa amministrazione da sei anni non ha risolto il problema, ricordo le campagne elettorali fatti dal sindaco D'Alberto, però oggi il problema sussiste. Piazza Donatori di Sangue, abbiamo un parcheggio inagibile, più volte io sono entrato all'interno, ho visto la situazione veramente indecorosa, più volte in Consiglio Comunale ho interrogato il sindaco su questo problema, però ad oggi non ho avuto nessuna risposta. Per Corona bisogna intervenire immediatamente nei due parcheggi, non solo per ragioni di decoro e sicurezza, ma anche per dare risposte sul fronte della sosta e del commercio nel centro città. La cosa che preoccupa soprattutto è il parcheggio di Colleatterrato. Infatti quello è un parcheggio abusivo, non c'è il certificato di prevenzione incendi, quindi se all'interno succedesse qualcosa è una problematica seria perché non ci sono né idranti né estintori e quindi un parcheggio così non si può tenere. Più volte anche qui in Consiglio Comunale ho interrogato il sindaco, ho interrogato l'assessore di competenza, ma il risultato non cambia. Ricordo anche qui le diverse campagne elettorali, precisamente due campagne elettorali che il sindaco D'Alberto ha fatto su questa problematica perché non è solo il parcheggio, c'è un centro polivalente con campetto, campo da bocce e spogliatoi totalmente in abbandono, rifugio di tossici dipendenti, rifugio di tutto, senza tetto, all'interno c'è di tutto e quindi pericoloso anche per i bambini perché lì è una zona più popolosa della città di Teramo.